Un corso di laurea in scienze del turismo e del mare alla Stella Maris di Montesilvano. L'ex colonia di epoca fascista di proprietà della provincia di Pescara è già pronta per un nuovo cambio di destinazione. La metafora del volo è scontata da centro di ricerca vera e propria facoltà universitaria, come era nelle corde anche dell'amministrazione. Il presidente della provincia di Pescara è primo cittadino di Montesilvano, Ottavio De Martini, sa da poco riaperto la questione dell'Ario Planino con il nuovo rettore Liborio Stupia. Il nuovo rettore è entusiasta di lavorare a questo percorso che è iniziato con il pregiacessore, il rettore Caputi. e insieme abbiamo ragionato una serie di cose sia in termini strutturali ma anche in termini prettamente collegati alle attività universitarie. Ci sono ottime idee, come del resto era nel contratto che abbiamo stipulato, era riportato. e ci auguriamo soprattutto che i tempi possano essere i più ristretti possibili per sognare e soprattutto per far tornare a sognare i tanti cittadini che rivedrebbero questo aeroplano, il nostro aeroplano finalmente volare di nuovo. È stata siglata il 4 ottobre scorso una convenzione che affida di fatto la Stella Maris alla gestione dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara per un arco di tempo di 29 anni. La prima data di questo cronoprogramma quale potrebbe essere? Io ho motivo di credere che comunque entro l'anno si partirà con i lavori e quindi in tempi relativamente brevi si possa appunto restituire al territorio una struttura che tutti quanti aspettiamo. Quale migliore occasione per dare la possibilità ai ragazzi di specializzarsi in uno dei settori trainanti dell'economia del territorio? Sarebbe tra l'altro una delle poche facoltà in Italia con queste specializzazioni oltre che garantire lustro e prestigio alla riviera di Montesilvano.